Guarda che Jeffrey l'è matto questo qua. Allora, Jeffrey, com'è andata la tua esperienza lavorativa? Dei che adesso torniamo a combattere. Oh, Jeffrey che ha tre match, due vinti prima del limite, è matto come un cavallo. Allora, Jeffrey. Ciao a tutti, sono Luca Rigoldi. Ho appena difeso il mio titolo, il titolo dell'Unione Europea. E sono qui all'interno della Dynamibox, la palestra in cui insegno, in cui ho deciso di investire tempo e grande volontà, perché secondo me la box ha qualcosa di eccezionale in sé, insegna alle persone a condividere le esperienze particolari, insegna a aumentare la propria autostima, insegna a sapersi controllare e non cadere dentro i propri istinti primordiali. Questo è lo spettacolo che la box insegna. E quindi, oltre che fare pugile, faccio tante altre attività. Mi piace proprio dedicare il mio tempo all'insegnamento, mi piace portare la mia esperienza sportiva di alto livello, le alte performance all'interno delle aziende. Il mio è stato un percorso molto graduale. Ho iniziato all'età di 15 anni a fare pugilato, ho smesso di giocare a pallone e il pugilato perché, a mio avviso, dentro di noi abbiamo questa grande volontà di voler vedere dove riusciamo a spingere i nostri limiti. E credo che ogni ragazzino voglia anche dimostrare di essere una persona che conta e che ha anche grande determinazione dentro di sé. E quindi credo che, come tutti i ragazzi che entrano dentro le palestre del pugilato, anche io avevo questa necessità. Ho iniziato a 15 anni e, nel momento in cui ho iniziato, ho deciso di non farlo in maniera troppo seria. E questo credo poi mi abbia aiutato invece a raggiungere grandi risultati. Ho iniziato per divertimento e piano piano mi sono avvicinato sempre di più a quello che è il pugilato agonistico. Da lì a un anno ero già sopra a ringa a esordire, a fare i primi match da dilettante. Da lì ho fatto 49 incontri dilettantistici, due volte i campionati italiani assoluti, comunque arrivando sempre in semifinale sul podio d'Italia. All'età di circa 20 anni sono passato invece professionista e abbiamo deciso di cambiare completamente strategia. Nel 2015 mi sono affidato al maestro Freo, che ancora oggi è il mio grande maestro, il mio grande mentore. E da lì un percorso che mi ha sempre portato sempre più in là. Ho imparato assieme a lui a diventare determinato ancora di più, a sapere dove spingermi e a non pormi mai dei limiti personali. E credo che questo mi abbia aiutato tanto, anche negli ultimi match dove magari la sofferenza e la difficoltà da una parte volevano farmi mollare, dall'altra invece sapevo che dovevo continuare per fare un grande risultato. Quindi una carriera iniziata nel 2016, poi già campione d'Italia, 2017 campione dell'Unione Europea, 2018 campione europeo assoluto a ieri, in Francia e in Costa Azzurra. Titolo che a mio avviso è il più importante in assoluto che io abbia conquistato e l'ho fatto anche fuori casa. Quindi questa è una doppia valenza questo titolo. Nel 2020 poi questa pandemia che ha messo in crisi tutto il mondo e in quel momento lì anche io fisicamente, forse per il covid, forse per lo stress causato, forse perché il mio fisico ne aveva la necessità, sono andato anche in difficoltà, avevo dei problemi fisici e non riuscivo diciamo a venirne a capo. Da lì ho conosciuto, conoscevo già anche altri atleti che frequentavano il mondo Tao Pach e mi sono fatto consigliare. Sono entrato in contatto con l'azienda, da lì una grande collaborazione. Io sono molto attento e quindi prima di entrare all'interno di una nuova realtà mi piace testare i prodotti e ho fatto un percorso che mi ha fatto capire che effettivamente il prodotto Tao Pach, questo dispositivo, questa nanotecnologia funzionava molto bene. Perché? Perché appunto lo sport, il pugilato in particolare, è molto traumatico, ci mette alla prova tutti i giorni. abbiamo dei movimenti molto scattosi, molto rapidi, che creano anche degli attriti. E poi ci confrontiamo con i pugni e quindi siamo in costante, diciamo abbiamo sempre dei grossi problemi fisici. E grazie a Tao Pach ho iniziato un percorso che poi mi ha aiutato anche ad uscire da certe problematiche fisiche che mi affliggevano ormai da molto tempo. E da lì poi ho iniziato tutta una serie di collaborazioni che mi ha portato non solo ad avvicinarmi al prodotto Tao Pach, ma anche alla famiglia. Quindi grandi persone fanno parte di questa azienda, di questa realtà e anche grazie a loro abbiamo costruito tante altre attività. Quindi questa esperienza a mio avviso con questa realtà è stata per me molto formativa, mi ha dato grande visibilità. Io spero di aver contribuito molto all'azienda e di continuare in una grandissima collaborazione con Tao Pach. Grazie a tutti.